ciao ragazzi domenica 3 aprile c'è il primo evento targato la spesa nell'orto si chiama a passo d'orto nella splendida location della villa colle del cardinale di perugia una sola particolarità prenotarsi online all'indirizzo che trovate qui sotto spuntate l'attività che vi interessa e se vi va potete anche rimanere a pranzo il costo di 10 euro menu menu pranzo al sacco vegetariano o normale attività tutte gratuite le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia ecco perché abbiamo bisogno di degli ingressi contingentati sia per il tipo di attività sia per l'emergenza in corso quindi esclusivamente prenotate via questo link qua sotto mi raccomando senza questa prenotazione non possiamo farvi entrare la sicurezza sarà cattivissima i ragazzi di corbook vi trascideranno fuori scherzo comunque incrociamo le dita intanto nel bel tempo che per adesso non c'è ma domenica ci sarà e ci vediamo il 3 aprile ciao